La storia dell'imprenditore bergamasco Gian Pietro Manenti parte da Cividatea al Piano. Ufficialmente titolare di un'azienda in Slovenia, la Mappi Group, società di servizi, con sede in un'anonima casetta di campagna nella zona industriale di Nova Goriz, con un capitale sociale di soli 7.500 euro e per la quale lo stesso Manenti aveva affermato di avere stretti legami col gigante dell'energia russo Gazprom. Gian Pietro Manenti, il Parma, e la ditta in Slovenia, tutte operazioni dal sapore di bluff che si iniziava a respirare anche in tempi non sospetti. Già un anno fa in Friuli il giochino delle promesse mai mantenute per finanziare dall'estero delle acquisizioni milionarie. Il tutto aveva portato alla rottura dei rapporti tra Manenti e di suoi conoscenti friulani. A Bergamo già aveva tentato un colpo, era stata infatti proprio la Mappi Group di Manenti ad intavolare trattative per l'acquisto delle cartiere Paolo Pigna. Era il giugno del 2013, quando l'affare saltò. Ma per due motivi fondamentali, non c'erano i soldi e i soldi che venivano appaventati non avevano una provenienza chiara. Quando ho visto che non c'era chiarezza ho chiuso la cartettiva. Non è stato l'unico affare che ha tentato, no? Mollata la pigna. Subito dopo di noi Manenti è andato a Brescia, dove stava per chiudere il contratto di acquisizione con il Presidente Corioni. Un giornalista del giornale di Brescia mi ha chiamato, mi ha spiegato qual era la situazione e mi ha pregato di chiamare il Presidente Corioni del Brescia. A lui e anche ad un altissimo dirigente di Bibanca che era coinvolta in quel momento nell'operazione Brescia che a mio giudizio personale non c'erano gli elementi di garanzia né sull'esistenza del denaro né tantomeno sulla provenienza licita del denaro. Di fatto quindi non stupisce tutto quello che è successo oggi? No, stupisce per la grandezza e la gravità delle accuse. Certamente sono ben oltre quello che io mai avrei potuto immaginare. Come Manenti si sia trasformato in uno scalatore provetto questo è davvero un mistero perché dopo aver abbandonato la trattativa per la pigna il patron del Parma ha continuato a vivere di luce e riflessa arrivando a tentare l'acquisizione anche delle Brescia, dallo storico Presidente Corioni, della Provercelli e recentemente anche del Bologna Calcio. Il 6 febbraio 2015 Manenti ha rilevato quindi le Parma pagando la cifra simbolica di un euro. Per salvare la società però serviva ben altro denaro che oltre alle promesse non si è mai materializzato. Grazie a tutti.